Ci siamo bentornati Ci siamo bentornati a una nuova puntata di Facciamo Finta Che Insieme Ce l'avete richiesto in molti Quindi abbiamo insieme a noi Franco Fracassi A cui diamo il benvenuto su questo canale Come stai? Buongiorno a tutti, sto bene, grazie Entriamo subito nel vivo Perché so che sei impegnatissimo in questi giorni Sei ricercatissimo Quindi ti ringrazio pubblicamente per aver trovato anche il tempo Di passare da noi per una chiacchierata E quello che ci stupisce, quello di cui vorrei parlare con te E di questo quarto Reich E anche un po' questa versione che molti raccontano Per cui quello che stiamo vivendo in attualità Quello che ci stanno raccontando Non è la terza guerra mondiale Bensì potrebbe essere la fine della seconda Che magari attendeva da tempo Quindi partiamo un pochettino da te E parliamo un po' di versioni diverse Magari più verosimili Di quella che è stata la storia E di quello che è questo ipotetico quarto Reich Allora Sì Veramente io non ci ho mai pensato a questa cosa Però Questa Suggestione che possa essere la fine della seconda Guerra mondiale Francamente è interessante Perché In fin dei conti abbiamo Due protagonisti Che sono Stati Uniti e Russia L'Ucraina è un Diciamo È un figurante in questa In questa situazione I protagonisti sono Stati Uniti e Russia Che ripropongono lo schema della guerra fredda Quindi diciamo La guerra fredda è veramente un prolungamento Della seconda guerra mondiale Perché la guerra fredda è nata Durante la seconda guerra mondiale Non dopo Perché gli Stati Uniti a un certo punto Sono stati Non gli Stati Uniti in generale Ma chi poi Ha preso il potere Negli Stati Uniti Negli Stati Uniti Dopo Dopo Roosevelt L'ha esplicitato in tutti i modi Durante la guerra Che il vero nemico degli Stati Uniti Non era la Germania Ma era l'Unione Sovietica E quindi hanno lavorato In quella direzione lì È legato Tutte queste vicende Sono legate alla seconda guerra mondiale Perché C'è il ruolo dei nazisti E per nazisti Intendo proprio i nazisti veri Cioè quelli Con la svastica Quelli che Diciamo considerano Hitler Come il più grande statista della storia Quelli che Citano il Menkamp a memoria Insomma Nazisti Quindi abbiamo i nazisti Abbiamo Gli Stati Uniti E la Russia E abbiamo il nemico Giurato dei nazisti Cioè Non è più l'Unione Sovietica Ma è sempre Diciamo Ha sempre il suo potere a Mosca Ci sono veramente Tutti E in più In questo caso Però non si capisce Dal Cioè Stranamente Dal Dal lato opposto C'è anche il presidente ucraino Che è ebreo Quindi Diciamo C'è Ci sono Gli ingredienti sono tutti Magari messi in maniera Differente Mescolati in maniera Differente Ma è Una suggestione Non male Ci arriviamo anche perché In teoria Ci hanno raccontato A scuola La versione ufficiale Racconta che Un po' La fine di Hitler Con la seconda guerra mondiale Gli americani che Entrano in Europa Entrano nei campi di concentramento Anche film come La vita è bella Ci hanno raccontato un po' Una versione Ma se così non fosse Franco Se Hitler non fosse morto In quel bunker Se non fosse andata così La liberazione Cosa ci racconta Intanto Gli animali Gli americani Che entrano nei campi di concentramento In realtà Sono entrati In Pochissimi Campi di concentramento Quelli si trovavano Nella Germania occidentale E basta Tutti gli altri Tutti quanti Perché la maggior parte Erano Messi tra Germania orientale Austria E poi andando Verso est Tutti Sono Sono Stati liberati Dall'armata rossa L'unione sovietica Quindi Diciamo che la storia Già ci ha raccontato Appunto Benigni La vita bella Si vedono Gli americani Che sono i liberatori Mentre insomma Mica tanto Il Hitler Allora La vicenda di Hitler Io Ho scritto un libro Su Questa vicenda Recentemente Si chiama Hitler 1945 Che racconta Della fine Della fine di Hitler In questo libro Spiego Libro che si basa Su solidissime prove Documentali Sia dei servizi sovietici Che di quelli americani Che di quelli britannici Di testimonianze Dell'epoca E quant'altro E Spiego che I tedeschi Si erano convinti A un certo punto Che la guerra Sarebbe stata persa E quindi Ho detto Troviamo un modo Per salvarci Per salvare noi E soprattutto Per salvare l'idea Che noi portiamo avanti E trovano una sponda Molto fertile Nel In un personaggio Eh Americano Che è il capo Del controspionaggio USA In Europa Eh Perché trovano Questa sponda Molto fertile Perché costruì È un nazista Molto semplicemente Cioè Che è un paradosso Nel senso Che colui Che doveva aiutare I partigiani A combattere i nazisti A preparare Lo sbarchio in Normandia E altri sbarchi Eh In realtà È un amico Di Adolf Hitler È un amico Di tutti Tutti i vertici Del Eh Del Terzo Reich E Li conosce Da oramai Dal 1925 Cioè Li conosce Da Da quasi Vent'anni E Eh Ed è lui Che ha Non è Non è stato L'unico motivo Diciamo che ha favorito Ha molto favorito L'ascesa di Hitler Eh Alla cancelleria tedesca Quindi Questo Sodalizio Che non si è mai spezzato Si rimigorisce A partire del 1943 E incominciano queste trattative Perché i tedeschi Ovviamente Sanno benissimo Che non possono scappare Dall'Europa Senza la complicità Di uno dei governi alleati Perché insomma Non si scappa In Una roba che è accerchiata Da Da Così Soprattutto non lo fa Adolf Hitler E non lo fanno nemmeno gli altri E E quindi Iniziano queste lunghissime trattative E Queste trattative ovviamente portano alla fuga di Hitler Portano alla fuga di molti dei gerarchi nazisti Ma non solo loro Dei gerarchi fascisti Parlo dei fascisti italiani Ma anche dei fascisti e dei nazisti Sparsi in tutta Europa Compresi quelli ucraini Cioè tutti i criminali di guerra ucraini Scappano E In questa fuga Questa fuga è organizzata A un certo punto Da una parte Dell'establishment Establishment americano In funzione di quello che accadrà dopo Perché appunto Il nemico Gli Stati Uniti Diventeranno l'Unione Sovietica E non sono Lo dicono in tutti Lo dicono Lo scrivono in tutti i modi Non è la Germania il loro nemico E quindi Nel corso di queste trattative Si prepara il dopoguerra Nasce Gladio Gladio che è quell'organizzazione della Nato Segreta fino al 1990 Che È entrata in tutte Ma proprio tutte Le schifezze che sono accadute in Italia Dalla seconda guerra mondiale in poi Comprese le stragi di mafia Tutte Pensate a una cosa brutta Che è successo in Italia Di mezzo c'è Gladio Ma non solo in Italia In Belgio In Francia In Germania e così via E Gladio nasce nel corso di quelle trattative Nel corso di quelle trattative Nasce tutto Tutta l'impianto Di politica estera americana Del dopoguerra E dell'impianto della guerra Fredda agli Stati Uniti d'America E come ho detto Una parte consistente Di nazisti Che sono riusciti a scappare Sono i nazisti Ucraini E lì Diciamo Inizia la nostra storia Cioè la storia Di quello che accade oggi In Ucraina Inizia esattamente Da quel momento lì Forse è per questo Che anche Putin Ha rivelato recentemente Che se continuano le provocazioni Lui per risposta Potrebbe anche Dessecretare Qualche documento Dalla seconda guerra mondiale Quindi Fa capire lui stesso E dire Ricordatevi che C'è una versione diversa Da quella che raccontate Secondo te A quale delle tante Rivelazioni scottanti Si potrebbe Riferire Magari anche proprio Alla presunta morte Di Hitler stesso È possibile I sovietici Quando Dopo la guerra Perché i sovietici Alla fine Sono gli unici titolati A dire Che fine ha fatto Hitler Perché Sono loro che sono arrivati A Berlino Sono loro che sono entrati Nel bunker Loro hanno fatto Le indagini Hanno ritrovato Il corpo Il presunto corpo Di Adolf Hitler E loro hanno scritto In tutti i modi Questo non è Hitler Dopo aver fatto L'autopsia Hitler è scappato L'hanno scritto L'hanno detto L'ha detto Stalin L'ha detto Zhukov Che è il comandante In capo Delle forze Dell'armata rossa Che è entrata A Berlino Dopodiché Sono adeguati Alla storia C'è quella che noi conosciamo Che è stata Che è frutto Di un agente Dei servizi segreti Britannici Che è basato Il nulla C'è il nulla cosmico Che appoggia quella storia Però Visto che Quando tutti dicono Sì questa è la verità Poi alla fine Gli storici smettono Di fare anche il loro mestiere E accettano questa verità Declamata da tutti quanti Perché l'hanno fatto All'epoca lo fecero Perché bisognava Chiuderla con la seconda guerra mondiale Insomma Tutti volevano ricostruire E con Hitler Ancora in giro Ovviamente non si poteva fare Una cosa del genere Bisognava continuare a combattere Però I sovietici sapevano benissimo Perché poi Hanno attivato Un corpo speciale D'inchiesta Negli anni successivi Che Hitler era scappato Dove era scappato Come era scappato Lo sapevano i sovietici Lo sapevano i britannici Lo sapevano Anche in un certo senso Gli americani Quindi Perché no Potrebbero tranquillamente Tirare fuori Credo sarebbero in grado Di tirar fuori i documenti Che spiegano Come gli Stati Uniti D'America Hanno fatto scappare Adolf Hitler E come gli Stati Uniti D'America Hanno fatto scappare Migliaia Decine Centinaia Di migliaia Se non Qualche milione Di criminali di guerra Nazisti E fascisti Da tutta Europa Per poi utilizzarli Dopo Per i loro scopi Tra l'altro Si tratta Magari proprio Di una Di una vera Trattativa In cui In cambio Anche di Tecnologie militari Vengono per esempio Alla mente Anche le Conoscenze Balistiche Un po' Anche a livello Missilistico E di quanti Scienziati Al soldo Nazista O nazisti In toto Passarono E lì si li vede Poi Bel belli Neanche senza Nasconderli troppo Nelle alte sfere Negli alti vertici Della NASA In ambito americano Quindi Proprio tutto sotto la luce Del sole Non bisogna impegnarsi Neanche troppo Per scoprire Sì sì La parte Di scienziati E' quella più clamorosa Nel senso che Era uno Dei punti chiave Chiesto agli americani Cioè Dice Noi facciamo I statunitenti Hanno detto Noi facciamo scappare Tra le varie cose Tutta Il comparto scientifico Tedesco Passa a noi La Germania era il paese Più avanzato Nella ricerca scientifica Non solo quella fisica Balistica Spaziale Nucleare E così via Ma anche quella medica Perché Nessuno Ci pensa Ma Paradossalmente La Il Durante la seconda guerra mondiale L'umanità ha fatto I più grandi progressi In avanti Dal punto di vista Della conoscenza medica Com'è stato possibile? È stato possibile Perché Alcuni medici Hanno potuto fare Esperimenti Sugli esseri umani Senza problemi Cosa che Ovviamente Aggiungo Non è stato più possibile Nel corso Di tutta la storia successiva Potevano prendere le persone E lanciarle dagli aerei Per vedere che effetto Facevano I corpi umani Le infilavano dentro Delle Delle botti Piene di ghiaccio A meno 20 gradi Per farle Emolire assiderati Facevano di tutto Per studiare Il comportamento Del corpo umano Sono scoperte Tantissime cose Dal punto di vista medico Ovviamente È un modo Folle Letteralmente Folle Di condurre Gli esperimenti La medicina Però Anche da quel punto Il motivo per cui Anche gli Stati Uniti Sono stati all'avanguardia Dal punto di vista medico Nel dopoguerra È dovuto anche a questo Cioè hanno preso Armi e bagagli La Germania Con tutte le sue ricerche scientifiche Se sono portate Negli Stati Uniti E questo è un Diciamo È la parte più clamorosa Ma Hanno utilizzato Tutta la rete spionistica tedesca Che era efficientissima Soprattutto in funzione Antisovietica Perché Ovviamente I tedeschi Hanno Un'enorme rete spionistica Nei paesi Che poi sono diventati Quelli del patto di Versabie Cioè Quelli che sono passati Sotto l'Unione Sovietica Hanno utilizzato tantissimo Della Germania Cose prese in blocco Tra l'altro A prop parentesi Penso che Una sperimentazione di massa Su scala mondiale Gli mancasse Quindi a loro Mancava Questo Che abbiamo visto Neanche loro Erano arrivati a tanto Però Anche qui Come all'inizio Tutto torna In un qualcosa Che In un ciclo In un ciclo Che ritorna E quindi Arriviamo poi Ai giorni d'oggi L'hai raccontato tu Anche Gladio Fra l'altro È una vicenda Che va approfondita Le persone Non hanno Non sanno nulla I libri di storia Non riportano nulla Di una vicenda Che per quanto riguarda Il nostro paese È fondamentale Perché Non capiscono il presente Ma perché Non capiscono La storia recente Non capiscono nulla Di quello Che Effettivamente Non è stato raccontato Bisogna cercare Secondo te Perché La vicenda Gladio Nonostante così Eclatante Per capire E unire i puntini È ancora Un tabù Quando parli di Gladio La gente Non capisce Perché Secondo te Non capisce Perché Non è Diciamo Non è informata Ma non Non si può dare Nemmeno una colpa Alle persone Non è che tutti Possono essere informati Su tutto Ci sono quelli più curiosi Quelli meno curiosi E Gladio E Gladio fa parte Di quei temi Un po' Da retroscena Che spiegano Una storia In maniera Differente Perché La storia È sempre Molto lineare No Nel 1946 In Sicilia C'è stata una strage Fatta da un Da un mafioso Il bandito Giuliano Che ha ammazzato Un sacco di persone E poi Un Il 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 capo Dell'ENI Ha avuto Un incidente aereo E poi Ci sono state Delle stragi Erano anarchici Erano fascisti Qualcosa erano Però insomma Erano sicuramente Delle persone Che volevano Del male all'Italia È stato rapito Il Il Presidente Del Consiglio Anzi no L'uomo più importante Il politico più importante Dopo il Presidente Del Consiglio Perché il governo Sarebbe stato un governo Andreotti Però insomma Il Segretario Del Il più importante partito Del Anzi il Presidente Il più importante partito Italiano E beh ci sono I comunisti Semplicazione Sono i comunisti Che l'hanno rapito E quindi E anche lì Terroristi Che sono cattivi Poi è stata messa una bomba A una stazione S'ha fatto una serie di cose Poi la mafia Incominciata a far saltare I nari giudici Sono tutte quante cose In cui ci sono C'è sempre L'individuazione Di un colpevole Semplice Da comprendere Perché il male Esiste tra noi Gente che È disposta A fare qualsiasi cosa Pur di far Digettare nel caos Il paese Le cose tipiche Le cose tipiche Dei film Insomma Se uno prende Un film americano Sono piene Di queste cose Qui Mentre non si capisce Non sono in tanti Quelli a Dire Ma Non c'è Cioè Se uno fa Un attentato Se uno fa Un rapimento Se si fanno Delle stragi Non è così semplice Anche perché è facile Essere beccati dopo Ci deve essere qualcuno Che ti protegge Qualcuno che ti organizza E magari non sono Nemmeno queste persone Che sono incapaci Di fare cose del genere Bisogna essere Anche tecnicamente Molto preparati Nessuno si pone Questi problemi Tutti vogliono Le cose molto semplici Perché se no Ti devono far pensare Magari ti spaventano Pensare che lo Stato Possa fare una cosa Del genere Lo Stato è quello Che ti protegge No? Come oggi Con la pandemia Lo Stato è quello Che ti protegge Quindi se ti dice Di fare una cosa Tu la devi fare Non metti in dubbio Le cose Per questo Gladio Come tante altre cose Nella nostra storia Sono sconosciute Ai più Semplicemente perché Ai più Non le vogliono Sentire queste cose Io Molto banalmente Negli ultimi tempi Io ho un figlio Che va in quinta elementare Spesso Quando lo accompagno A scuola O quando lo vado A riprendere Sono gli altri genitori Si chiacchierano Loro sanno Che io Faccio giornalista In chiesta Insomma Schrivo libri E quant'altro Per cui alcuni di loro Mi chiedono E io parlo Cioè discutiamo E ci sono alcuni genitori Che nel momento in cui Inizio a parlare Si girano E si allontanano Dopo Sono molto gentili Sono contenti di vedermi Parliamo così Ma appena si inizia A parlare di certe cose Passa mezzo minuto Un minuto E trovano una scusa Per allontanarsi Ed è così Cioè le persone Non vogliono ascoltare Perché Ti fanno pensare troppo E ti mettono paura Certe cose Come diceva In Matex Alcuni sono talmente Assuefatti al sistema Che combatterebbero Per proteggerlo Perché Semplicemente perché Non saprebbero viverne Al di fuori Quindi Gli crollano delle certezze E non hanno la forza Sono stati destrutturati Non a caso Da tutta una società Che ti rende Un po' così Zoppo E quindi Quella stampella Dell'affidarti a qualcuno È comunque insita Io immagino Fra l'altro Anzi Ti chiedo anche Da padre a padre Come affronti Quando magari Tu figlio arriva E in cui Treventari Già hanno approcciato Alla storia Già hanno approcciato Determinate tematiche Già magari Provano A inculcare Un qualcosa E quindi Come reagisci tu Quando leggi E gli senti Ripetere O che per prendere Un bel voto Devano ripetere A memoria Una storia Che tu Nel tuo lavoro Quotidiano Affronti E vedi Come in realtà Partono da piccoli Nel manipolare Un po' Le informazioni Come ti approcci Non so Io sto spiegando A mio figlio Da quando è piccolo Che deve ragionare Con la sua testa Anche se tutti Pensano una cosa Magari Quella potrebbe essere Anche la cosa Sbagliata E lui Avere un suo Pensiero alternativo Anzi è una cosa È quasi un punto Di onore Di orgoglio Pensarle in maniera Differente E controcorrente Rispetto agli altri Io queste cose qui Provo a Secondo me Bisogna instillare Nelle persone I concetti base Perché poi Ognuno prenderà La sua strada E avrà il suo modo Per apprendere Il concetto del dubbio È una cosa fondamentale Non che bisogna Dubitare di tutti Gli esseri umani Che ci circondano E così No Questo diventerebbe Veramente Trasformare le persone In Sospettosi eventi Insomma Sarebbe un inferno La vita Però il dubbio Quando il potere Afferma qualche cosa Questo sì Perché il potere Non è buono Il potere Nella Purtroppo Nella maggior parte Dei casi Non sempre Ma nella maggior parte Dei casi Tende a riproporre Se stesso A difendersi E a Trarre vantaggio Dalla posizione Che ha E per farlo Degli strumenti Che gli altri Non hanno Immensamente Più potenti Rispetto agli altri Quindi per farlo Può manipolare Può modificare La realtà Può inventare La realtà Di sana pianta E farla credere A tutti quanti Può fare Veramente Di tutto E anche Come nulla È lasciato Al caso Perché Molti Insegnanti Azzarderei Dire Tra i migliori Sono quelli Che adesso Gli viene impedito Di esercitare Quindi guarda Come hanno Anche scremato Quella Quella Quel granello E quel sistema Quell'ingranaggio Del sistema Che poteva Anche insegnare Ai ragazzi A pensare Diversamente Poi Adesso Anche sui libri Vediamo anche Una propaganda Del siero E chissà Fra qualche mese Che cosa scriveranno Di quello Che stiamo vivendo Avranno tutte le copertine Giallo blu Anche il libro Di matematica Sarà tutto giallo blu Quindi ormai Vanno a inculcare Di tutto E torniamo Proprio All'attualità Perché Voglio anche Accennare un po' Il discorso Del giornalismo Tu giustamente Fai giornalismo Di inchiesta E immagino Anche con Con che sacrificio Tu possa dire In giro Di essere giornalista Visto anche Che cosa stanno Combinando I colleghi Perché Quando si sente Parlare In qualche modo Del giornalismo Delle robe Ovviamente Fanno di tutto Dal buon fascio Ma perché Il 99,99% È imbarazzante Io stesso Ho pensato Di riconsegnare La tessera All'albo Almeno due volte Solo negli ultimi Tre mesi Quindi Comincia a essere Veramente Imbarazzante Quello che viviamo Hai visto Anche Mentana Che nega Di essere stato Sul Concordia Non si trovano più Su Britannia Scusami Non si trovano più I filmati Le interviste I personaggi Saliti Sul Britannia E poi esce Dicendo che Il battaglione Azov Non sono Cattive persone Non sono Tutt'altro Ecco Come Come ti spieghi Un po' Il ruolo Di questo giornalismo Il ruolo Il giornalismo Ormai Sono anni Che è andato Ma soprattutto È andato Io Prima ancora Di malizia Ci metterei Proprio Il sistema È strutturato Per renderlo Incapace Ed è una cosa È una cosa Sistemica Cioè tu Per Emergere Per Per fare bene Il tuo mestiere Quindi Le domande giuste Porti domande Dubitare Andare a cercare E così via Devi combattere Contro il sistema E questo Già rende La cosa Molto complessa E pochissimi Lo fanno Pochissimi Lo fanno Perché ne hanno Voglia Pochissimi Lo fanno Perché ne hanno La capacità Perché poi alla fine Fin dalla scuola Ti insegnano A ragionare In un certo modo La cosa Che però Mi ha Veramente Sorpreso Oltre ogni Limite Cioè questo Veramente Mi ha Lasciato Di stucco È Come Personaggi Che sono Notoriamente Antifascisti Notoriamente Ultra Antinazisti Accettino Il nazismo Come una Cosa Diciamo Tolerabile E che Questo È Inspiegabile Cioè Mentana Non fosse Altro perché Di famiglia Ebrea Ha sempre Dico io Giustamente Messo l'accento Su certi Temi Sempre Sempre Cioè ci vuole Pochissimo Per farlo Accendere Per Per Scatenarlo Contro Chiunque Diciamo Si Professi Anche su Lontanamento Dico una parola Fuori posto Per quanto riguarda Il nazismo E Improvvisamente Il fatto Che ci siano Dei nazisti Al vertice Al potere Di un paese Europeo Oramai da Otto anni Il fatto Che questi Nazisti Abbiano fatto Le cose Indicibili E che Continuino A operare A combattere In quel paese Risulta Una cosa Tollerabile Ieri sera Mal me ne colga Perché di solito Oramai ho smesso Di vedere Quella trasmissione Per motivi Così stavo Stavo davanti La televisione E guardavo Di martedì Di fronte E di fronte All'obiezione Ma quelli Sono nazisti La risposta Di florist Invece di Preoccuparsi Che quelli Erano nazisti E ha detto Sì va bene Però Putin è fascista Cioè l'ha buttata In cacciara Soprattutto Per dire Quelli sono nazisti Ma quest'altro è fascista In fin dei conti Si combattono Così Ed è agghiacciante Questa cosa E Non saprei E qualcosa Di Questo veramente Di inspiegabile Cioè di come Si possa Negare Se stessi La propria storia Mark Zuckerberg Che ha fatto Che con Facebook Tutte le cose L'olocausto Eccetera eccetera Giustamente Dico io Adesso Ha Ha deciso Facebook Ha deciso Che Il battaglione Azov E non solo Perché poi Parliamo sempre Di un battaglione Ma in realtà Sono tantissimi Battaglioni Semplicemente Il più Famoso Perché si cita In continuazione Ma sono tanti Comunque Il battaglione Azov Può tranquillamente Fare propaganda Per se stesso Su Facebook Mentre Facebook Censura Veramente Qualsiasi cosa Venga detto Fuori posto Secondo loro Quindi quello Che dice Battaglione Azov Inneggia Al nazismo Quello va bene E mi sembra Veramente La follia Cioè in un paese In cui L'antisemitismo È in un paese Del politico È corretto Agli Stati Uniti D'America In cui l'antisemitismo È guardato Con la lente Di ingrandimento E c'è La potentissima Fondazione Diciamo Ebraica La lobby Ebraica Americana È potentissima Non si Non si può dire Mai una parola Fuori posto Riguardo Quei temi Lì In questo paese In quel paese Con quel sistema Lì Improvvisamente Si può Inneggiare Al nazismo È una cosa Questa veramente È una cosa Che non capisco Cioè io Vorrei entrare In cervello Di queste persone A capire Che cosa Gli è successo E soprattutto Anche La campagna Di incitamento All'odio Facebook Fa sapere Che l'odio Non è tutto uguale C'è l'odio Tollerato Magari Per esempio Verso Putin E l'odio Invece è quello brutto E cattivo Verso i loro amici Capito Quindi in realtà Anche l'odio stesso Non è odio Ma dipende Dove 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 Il riposto E quindi È veramente scandaloso Dal punto di vista umano Dovrebbe Insorgere Amnesty International Qualunque tipo di religione Che è alla base A Il fermare E bloccare L'incitamento All'odio Lì dovrebbe Cadere Un po' tutto Ma poi Giustamente Anche Il ruolo Di Israele In sé Magari Ci arriviamo Anche a quello Che sta facendo Bennett Che di sabato Corre E va a Incontrare Putin E di sabato È un'occasione Che accade Solo veramente In un momento Di profonda crisi Ma anche poi Laddove qualcuno Avesse dei dubbi Va a vedere Magari Dei personaggi Come i Rothschild Che sono Spudoratamente Schierati Anche loro Con l'Ucraina Quindi Forse anche lì Bennett però Non è schierato Con l'Ucraina No Israele No Perché Tu hai Giustamente ricordato Una cosa fondamentale Perché fa capire Come il mondo Non sia Assolutamente L'Occidente Che il mondo Va oltre I confini Dell'Europa E degli Stati Uniti Allora Israele È un paese Ovviamente legato Quasi in simbiosi Con gli Stati Uniti D'America Cioè gli Stati Uniti Addirittura Versano 4 miliardi Di dollari L'anno Nelle casse Di Israele Come È proprio Una tassa Di Stato Cioè Non so come dire È Più legati Di così Nonostante Questo Israele È un problema Anzi Ce ne ha due Il primo Un terzo Della popolazione Israiana È russa Se si va A Tel Aviv Molti dei cartelli Stradali Sono scritti In russo I due terzi Dei ricchi Israeliani Cioè di quelli Che contano Alla fine Come sempre Accade Nei vari paesi Sono russi Quindi lui L'Israele Non può Prescindere C'è È un legame Diverso Quello della Russia Non è Un legame Diciamo Di Comodo Di Bisogno Reciproco Come gli Stati Uniti È Questo è un legame Di fratellanza Perché c'è proprio Una batteria Che è russa Sono israeliani E sono russi Hanno doppia cittadinanza E quindi Questo è il primo problema Il secondo problema È che Israele Notoriamente Ha due nemici Che sono Siria E Iran E uno È direttamente Dipendente Della Russia Cioè la Siria L'altro L'alleato Della Russia Cioè l'Iran E quindi Lui ha bisogno Della protezione Della Russia Per impedire Che succeda Qualche cosa Contro la Siria O contro l'Iran Cioè ha bisogno Della tranquillità Delle sue frontiere Anche perché Anche perché L'Iran E la Siria Appoggiano Hezbollah Che sta in Libano Quindi diciamo Israele Ha un problema Quindi ha un problema Di sicurezza nazionale È un problema Di popolazione interna I russi Peraltro Sono quelli Di destra Cioè sono quelli Che votano Bennett I suoi elettori Sono russi Quindi lui Il sabato Cioè il giorno In cui Non si Apre nemmeno L'acqua Il rubinetto Per bere Un bicchier d'acqua E Vola A A Mosca Per parlare Con Putin Perché Israele Non è per nulla Schierato Dalla parte Ucraina Nonostante Il presidente Sia ebreo E nonostante Il principale L'uomo Che ha messo lì Questo presidente Cioè quello Che ha finanziato Tutta la sua campagna elettorale Che è un oligarca Ucraino Sia cittadino Israeliano Nonostante questo Israele Non è schierato Con Ucraina Non può permetterselo Cioè anche se volesse Bennett Non potrebbe farlo Si ritroverebbe In minimo La guerra civile Non verrebbe più Rieletto La prossima volta E rischierebbe anche Una guerra Con i paesi vicini Quindi non lo può fare E lì magari viene Qualche contraddizione Di qualche linea Di sangue Di qualche famiglia Di alcuni tipi Di famiglie interne Che magari hanno Un regolamento Di conti Che va avanti Anche lì Dai tempi Della seconda guerra mondiale Quindi abbiamo citato prima I Rothschild Che invece non fanno Segreto Di quello che stanno Facendo Sì Io Devo dire Su questa cosa Sono la cosa Che mi lascia Un pochettino Qualche dubbio Nel senso Non sui Rothschild In sé Perché insomma Si commentano Da soli E vedere Semplificare il mondo In una famiglia Io credo che il mondo Sia molto più complesso E questa cosa Che vi ho detto Israele Ne dimostra La complessità Il mondo Sia molto più complesso Del Di un singolo Di un piccolo gruppo Di potere Che gestisce I destini Dell'intero pianeta Sono sette miliardi Voi immaginate Non so Quando io provo A organizzare una cena E invitare quattro amici Ci si mette Una settimana Per trovare Il giorno libero Delle persone Sto dicendo Una cosa banalissima Perché è complicato Anche fare una cosa Del genere Immaginate Che vuol dire Poter gestire Sette miliardi E mezzo Di persone E con tutte Le interazioni Quindi Le miliardi Di miliardi Di miliardi Di interazioni Che hanno Queste sette miliardi E mezzo Di persone Con le interazioni Con gli eventi naturali Le interazioni Con Oppure con gli animali Con qualsiasi cosa Accada Cioè Ci sono Tale quantità Di variabili Che anche se tu Stabilisci un piano È praticamente impossibile A livello planetario Portare avanti quel piano Anzi In un senso È impossibile Perché le cose Sono molto complesse Quello che si può fare È Alla lunga Quindi non A breve termine Ma a lungo termine Apportare delle trasformazioni Nella Nella direzione Che si vuole prendere E questo si fa E questa è già una cosa Differente Faccio un esempio I Diciamo Gli ideologi Della Dottrina Neoliberista Che è una dottrina Sociale Non economica Che è proprio Un modo di vedere Il mondo E la società Hanno Decine di anni fa Decenni e decenni fa Hanno detto Noi vorremmo il mondo In questa maniera E hanno lavorato per Non per avere tutto il mondo Ma quantomeno per avere Diciamo L'Occidente Ecco Già un'area Un po' più ristretta E In decine di anni L'Occidente Ha preso quella strada Non vuol dire Siamo tutti neoliberisti Vuol dire che Siamo sulla strada per Cioè siamo diventati Le società sono diventate Abbastanza neoliberiste Questo si può fare Cioè E diciamo Questa cosa Questa si può organizzare In qualche modo Per un lungo arco di tempo Eh Diciamo Manovrare Il Il mondo Come se fossero Dei Dei pezzi E gli scacchi E si stia giocando una partita Quello mi sembra decisamente Più improbabile Anche quando Parliamo di agenda 2030 Quelli sono i piani Poi non è detto Che vengano realizzati tutti O realizzati In quelle tempistiche lì Perché non giocano Da soli Per fortuna Perché altrimenti Esattamente Avremmo già fatto Una brutta fine Però ecco Proprio a proposito Di questi piani Quest'opera Di denazificare Un po' L'Europa E l'Ucraina Alla parte di Putin Tu Come lo vedi Questo scacchiere Si può allargare Il conflitto C'è chi guarda La Moldavia C'è chi guarda A Taiwan La Cina È silenziosa Putin si sta rivolgendo Sempre di più Verso a Oriente Quindi Ovviamente siamo Nelle ipotesi Ma A livello geopolitico Tu Come Come pensi Possa andare a finire Quello che sta succedendo Allora Alla Moldavia Non credo Perché insomma La Moldavia È abbastanza Integrata con la Russia Paradossalmente In Moldavia C'è una parte Della Moldavia Che è la Repubblica Della Transnistria Che è È riconosciuta Solamente dalla Russia Non è riconosciuta Da nessun altro paese Al mondo Ed è territorio russo Cioè è un territorio Strano È un paese indipendente Il governo Moldavo Sa benissimo Che dentro Il proprio paese Ci sono 15.000 soldati russi Molto ben armati E non fanno Mai nulla Anche perché La popolazione russa Comunque lì è sempre presente Non si sognano proprio Di mettersi contro la Russia Quindi la Moldavia Non credo Cioè la Moldavia È abbastanza Addomesticata Da quel punto di vista No ma noi A me un cittadino Moldavo Probabilmente Non fanno loro qualcosa Ma Se Putin volesse Annettere la Moldavia Non gli basterebbe Che chiedere E molti andrebbero Non c'è motivo Cioè la Moldavia È un paese Neutrale È un paese Ovviamente amico Della Romania Perché Fin dei conti Sono rumeni La maggior parte di loro È ovviamente amico Della Romania Ed è un paese Molto amico Della Russia Quindi Non ci sarebbe motivo Non ci sono Non c'è la Nato In Moldavia Ne nemmeno si sogna Di entrare nella Nato Ne nemmeno di entrare In Unione Europea Non credo Che il conflitto Si allargerà Perché L'allargamento Del conflitto Vorrebbe dire Veramente La La guerra mondiale E sarebbe L'ultima cosa Che noi vedremo Nella nostra vita Teoricamente Se proprio si parla di Russia L'unico Paese In cui si potrebbe Realmente allargare Il conflitto Sarebbe la Georgia Che è l'altro paese Insieme all'Ucraina Che rompe le scatole Che provoca la Russia In tutti i modi Che ospita In qualche modo Truppe americane E che E con cui Ci sono state Già C'è stato già Un conflitto Tra Russia e Georgiani Quindi Se proprio Bisogna pensare A un paese Io penserei a quello Dopodiché Taiwan E' ovvio Che la Cina Guarda La Cina in realtà Non vuole la guerra La Cina E' il Tra le varie cose E' il principale Parsel commerciale Dell'Ucraina Quindi Oltre che Della Russia Oltre che Uno dei principali Dell'Europa La Cina Ha bisogno Della pace Per chi vuole Far affari Questo è lo scopo Della Cina Dostanzialmente Eh Però Però Eh Guarda Con favore Quello che è successo A Eh In un certo senso Quello che sta accadendo Con l'Ucraina Da parte della Russia Perché ha la stessa Sensazione con Taiwan E con Hong Kong Hong Kong in realtà È territorio cinese Anche se non lo è Cioè è una cosa stranissima Eh Ma Eh Con Taiwan Taiwan sono cinesi Alla fine Sono cinesi Che alla fine Della seconda guerra mondiale Quindi non Eh Non un po' dopo La fine della seconda guerra mondiale Quarantanove Però insomma Da più di settant'anni E Non Eh Non come Succede per l'Ucraina Da trent'anni Quindi da molto più tempo Però sono cinesi A tutti gli effetti Cioè le famiglie Taiwan sono Hanno i loro parenti in Cina E viceversa E E la Cina Non riconosce Taiwan E E considera Taiwan Proprio territorio Lo considera proprio Cioè a differenza della Russia Non considera l'Ucraina Proprio territorio La Cina considera Taiwan Proprio territorio Quindi Diciamo L'idea di Annettersi Taiwan Potrebbe Stuzzicare i cinesi In quel caso lì Però c'è un problema Perché Il Taiwan È pieno di basi americane E Non è Esattamente la stessa cosa Se la Cina Invadesse Taiwan Avrebbe a che fare Con gli americani A meno che Gli americani Non decidano Togliersi dalle scatole Cosa possibile Come hanno fatto Anche adesso In Ucraina In senso che Non volevano apparire In nessun modo Perché stanno benissimo Che non vogliono Non possono entrare In uno sconto diretto Tra Cina E Stati Uniti E nemmeno tra Russia E Stati Uniti Quindi sarebbe Un po' più complicato Però insomma Io credo Qualche pensiero La Cina Ce l'abbia fatto In quel senso E quindi Tu come vedi Possibile Quando si potrebbe Placare Questa Questa situazione Che purtroppo A molti Fa comodo Quindi per poter Allargare lo stato Di emergenza Per poter Fare tutta una serie Di cose Perché magari Non è del tutto Casuale Dici guarda La sfortuna Dopo due anni Così ci si mettono Anche le tensioni Belliche Siamo proprio Sfortunati In queste Magari Non dico che Però Fa parte Un po' tutto Unico paese Al mondo In cui c'è lo stato D'emergenza per la guerra In Ucraina L'Italia Senza nemmeno confinare C'è stata 2000 km da lì Quindi è una cosa Che non ha È una cosa Da barzelletta Cioè lo stato D'emergenza per la guerra Veramente è una cosa Da barzelletta E il problema È stato votato È stato deciso Dallo nostro consiglio Dei ministri È stato accettato La nostra classe politica Come se fosse Una logica conseguenza Degli eventi Veramente È la follia Più totale Come andrà a finire Non dipende Io dico che non dipende Né dall'Ucraina Né dalla Russia Dipende dagli Stati Uniti D'America Perché poi l'Europa Agisce di conseguenza Se Biden decide Di farla finita La guerra Finisce il giorno dopo Dipende solo Dagli Stati Uniti D'America E da quello Che decideranno loro Perché il governo Zelensky È un governo Che sta lì Per Diciamo Per merito Degli Stati Uniti D'America La resistenza La resistenza ucraina Esiste Per merito Degli Stati Uniti D'America Perché le armi Stanno dando loro Gli addestratori Sono loro E quant'altro Anche la Diciamo Essere fomentati Alla resistenza Avviene dagli Stati Uniti Se gli Stati Uniti Decideranno Che è il momento Di trattare La guerra Finisce Dipende Solo E unicamente Da loro E il fatto Che magari Alcuni Stati Tra cui il nostro In primi Si siano vantati Di mandare Armamenti E soldi Ma una volta Non si faceva Di nascosto Non ci sono i servizi Per fare Le peggio porcate Senza dichiarare Ma è illegale Fare una cosa del genere E lo Stato Sta facendo una cosa illegale Perché non si possono Vendere armi A un paese in guerra Non si possono Anche se si pensa Che sia Giustamente In guerra Non si possono Vendere armi E come reputi Anche D'Alema Che misteriosamente Saltano fuori Queste intercettazioni Di lui Che vende le armi Alla Colombia Non penso che Chi possa intercettare D'Alema Siamo io e te O un giornalista No O un esso Solo determinate Organizzazioni Esattamente E perché lo stanno facendo Cioè Quanti giochi Per 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 metterlo fuori gioco Insomma Perché Evidentemente Pensano Che D'Alema Possa avere Un peso Nelle scelte Dell'Italia E in questa maniera Qui L'hanno L'hanno escluso Perché è evidente Che Si è squalificato D'Alema Come personaggio Anche in seguito A questo Sei ottimista Tu sul futuro Quanto meno Dell'economia Italiana Ci può essere Una ripresa Risposta Risolvere Risolvere Un po' Di grattacapi Interni Di sicuro Purtroppo La società Nesce Spaccata Letteralmente In due Quindi Stiamo veramente A vedere Quello che potrebbe Accadere In fase conclusiva Ci puoi Raccontare Dove Ti possono Trovare E dove Possono Leggere I tuoi Lavori Dove Possono Acquistarli Sì Allora I miei libri Si possono Acquistare Unicamente Atterso di me Quindi Scrivendomi Non ho nemmeno Un sito di e-commerce Quindi bisogna scrivermi Un'e-mail Alla mia E-mail Personale Che è Franco Fracassi Uno A numero Chiocciola Gmail.com Franco Fracassi Uno Chiocciola Gmail.com Vi scrivete Poi io vi spiegherò Come fare ad averli Si possono ovviamente Sia avere in pdf Sia averli cartacei Nel caso dei libri cartacei Vi arriveranno a casa Con la dedica Sempre Ecco Bene A cosa stai Lavorando C'è qualcosa In uscita Intanto Ti vediamo Spesso Insomma Ti stai facendo Anche un po' di nemici Con questa situazione Altri Andando iniziare A parlare Eh sì Diciamo che A raccontare Ormai Chi Chi parla Di attualità È sempre Questa società Spaccata in due Quindi Andare a raccontare Una verità alternativa Ci si fa Dei nemici Purtroppo Non lo sapevo Va bene Però Senti che Senti che È possibile Non lo so Non è una cosa Che mi ha mai Preoccupato Un granché Però Insomma Al di là di questo Qual è la domanda? La domanda È che Infatti So che Stai dando Anche Che spiega Che spiega Molte cose Diciamo È molto utile Per comprendere Che cosa sta accadendo E perché sta accadendo In questo momento In Ucraina E non solo Dopodiché Sto lavorando A tre cose Anzi a quattro cose In realtà A tante Però diciamo Quattro Sono un po' più Ci sto lavorando Più intensamente Uno È Un audio Inchiesta Quindi Un podcast Può essere Di circa un'ora Verrà fuori Ma è come se fosse Un documentario Però solamente audio Su chi ci sta Guadagnando Da questa pandemia Un'altra È Una È Un libro Inchiesta Sui rapporti Storici Oramai Diciamo Più che settantennali Ottantennali Tra Lo Stato Italiano E la mafia Un altro Ancora È Un'inchiesta Sull'informazione Sui meccanismi E il sistema Dell'informazione E infine Un altro Sulla Biotecnologie E sul Come Queste biotecnologie Stanno cambiando La nostra società La nostra vita E Soprattutto Legate a Quello che sta Accadendo Quello che è accaduto Negli ultimi due anni Con il virus E come Questo virus E gli altri virus Che arriveranno Saranno molto 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 Legati a queste Biotecnologie Perché sono virus Creati all'uomo E non esistenti In natura Ecco Bene Su questa frase Ci rivedremo Perché i virus Che stanno Arriveranno Unito anche A qualcuno Che parlava Dell'era Delle pandemie Come plurale Ci lascia Un po' Una porta Sull'amaro Ma su un futuro Grazie Franco Per aver trovato Tempo di essere Con noi Quest'oggi Spero di tornare Presto a trovarti Ma intanto Grazie Un abbraccio A te A tutti coloro Che hanno deciso Di passare Questa serata Insieme a noi Veterani Nuovi E chiunque Deciderà di poter Fare qualcosa Per divulgare Queste informazioni Andiamo in sigla Grazie di cuore a tutti Hare Krishna Appuntamento Alla prossima puntata Ciao Grazie a tutti